Vuoi? No. Certo che non hai proprio la faccia da suicida. E tu dò un uccido? Ma anche per come sei vestito, no? Ma ti sei vista? Eh beh. Al momento l'unico cosa certa che è ammazzata è la moda. E all'ultimo desiderio prima di morire ci hai pensato? No. Il mio ultimo desiderio di sicuro sarebbe quello di fare l'amore. Se per questo vuole il mio, amore, dove la trovo la donna? Vabbè, mi immolo io per la causa. Come? Te lo meriti. No, vado a prendere una stanza su. No, 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 te lo meriti. No, veramente, come se avessi accettato. Guarda che tu mi vedi così. Ma dentro di me si nasconde l'essere più fine, sensibile e aggraziato che esista al mondo. Minchia come si nasconde bene.